Grazie a tutti. Abbiamo pubblicato quello che è l'andamento del contagio in cui vediamo dal nostro titolo che continua il calo dei ricoveri in Lombardia ma purtroppo non accennano a diminuire le morti. Vediamo l'infografica di Regione Lombardia per i dati nel dettaglio. Vediamo che il contagio sale leggermente rispetto alle giornate precedenti. Eravamo abituati a una percentuale di contagiosità quindi praticamente quel tasso di percentuale fra i tamponi risultati positivi e i tamponi processati sotto il 10% nella giornata di ieri è stato superato il 10% anche se di molto poco. La percentuale infatti è pari al 10,1%. Numero di tamponi molto basso probabilmente anche sull'onda lunga di quelle che sono le festività, il ponte dell'Immacolata 16.276, quelli analizzati in totale che hanno portato alla luce 1.656 nuovi casi di contagio. Il dato di Brescia è 131 quindi un aumento di 131 nuovi positivi. Un dato come al solito nella media vediamo comunque quelli che restano più alti sono i dati ad esempio di Milano 420. Veniamo ad esempio che quest'oggi è alto anche il dato di Mantova 212 e poi via via tutte le altre province lombarde. Positivi come prosegue il positivo il calo dei ricoveri nella nostra regione. Vediamo due segni meno, un meno 14 per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva. Attualmente sono 767 in totale in tutta la regione e un calo anche abbastanza importante, un meno 175 per quanto riguarda i ricoveri non in terapia intensiva. Quindi i ricoveri ordinari, anche qui abbiamo un totale che attualmente è di 6.187 ricoveri. Quindi una pressione che negli ospedali lombardi va mano a mano ad allentarsi, quindi una pressione che sta diminuendo sugli istituti clinici lombardi. Vediamo come detto anche nel titolo il dato dei decessi che purtroppo rimane alto, non abbiamo a disposizione il dato di Brescia, ma per quanto riguarda la Lombardia nella giornata di ieri i decessi segnalati sono stati ben 128, un totale davvero molto importante, davvero molto doloroso quello dei decessi dall'inizio della pandemia nella nostra regione. In totale sono oltre 23.200 per la precisione, 23.208. Dopo l'emergenza Covid-19 si è parlato tanto delle professioni, ad esempio, della pubblica amministrazione negli nostri ospedali, quindi parliamo ad esempio degli infermieri. Quest'oggi incrociano le mani i dipendenti pubblici, hanno uno sciopero anche nella nostra provincia con dei numeri anche abbastanza importanti. Attualmente i vertici sindacali, proprio in questi minuti, sono in prefettura, stanno parlando con il prefetto Tiglio Visconti nel poveriggio. Potremmo anche avere le dichiarazioni e sapere cosa è stato detto appunto nella prefettura di Brescia in merito ad esempio alle assunzioni e ai contratti di questi dipendenti pubblici. Vediamo intanto quali sono le richieste. Oggi scendono in sciopero i lavoratori della sanità e della pubblica amministrazione per cambiare e migliorare il comparto per la sicurezza nel lavoro, per le assunzioni e il rinnovo del contratto di lavoro. Dalle 10 alle 13 è previsto un presidio davanti alla prefettura. Tra questi lavoratori ci sono anche i celebrati eroi della sanità, ormai forse dimenticati dal governo. Lo sciopero è stato indetto dalle categorie di CISL, CGL e UIL per cambiare e migliorare la pubblica amministrazione, per la sicurezza nel lavoro, per le assunzioni in tutti i settori pubblici e per il rinnovo del contratto. Scioperano lavoratori che hanno pagato un prezzo altissimo anche in termini di contagi e morti nei luoghi di lavoro a causa del Covid, fanno sapere i sindacati. Ricordiamo i nostri eroi della sanità, lavoratori che per 10 anni non hanno rinnovato il contratto, che hanno la contrattazione aziendale bloccata in un settore importante per il sistema paese, dove sono presenti 350.000 lavoratori precari con contratti a scadenza, nell'incertezza per il loro futuro e quello della loro famiglia. A Brescia, questo comparto, stando ai dati dell'RSU 2018, si compone di 11.102 lavoratori della sanità pubblica, 6.155 lavoratori degli enti locali, 972 lavoratori dei ministeri, 633 lavoratori delle agenzie fiscali e 500 lavoratori degli enti pubblici non economici. Questa mobilitazione riguarda oltre il 57% dei lavoratori che sono in prima linea, soprattutto quelli della sanità, che dovranno garantire le cure ai pazienti Covid e che quindi non potranno manifestare. Parliamo ora dei ristori economici, più in particolare del bonus da 1.000 euro dell'Inps. Infatti doveva scadere il termine per presentare le domande lo scorso 30 novembre. Questa scadenza è stata prorogata fino al 18 del corrente mese, quindi c'è ancora possibilità di fare richiesta per questo bonus da 1.000 euro. La scadenza per farne richiesta era fissata per lo scorso 30 novembre, ma con una circolare dell'Inps è stata posticipata al prossimo 18 dicembre, Stiamo parlando del bonus da 1.000 euro. Si tratta del contributo una tantum per alcune categorie di lavoratori, dagli stagionali ai somministratori del turismo, dagli intermittenti ai lavoratori dello spettacolo. Innanzitutto, chi ha già ricevuto il bonus ad agosto non dovrà fare una domanda nuova per ricevere questa indennità confermata dal decreto ristori. Tutti gli altri potenziali beneficiari devono invece fare una richiesta in modalità telematica sul sito dell'Istituto di Previdenza. Le categorie di lavoratori che possono richiedere il bonus sono quelle più colpite dalle restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Attenzione però, perché si tratta di un bonus non cumulabile con il reddito di emergenza o con alcune indennità, come quella a favore dei collaboratori domestici, dei lavoratori sportivi, dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, dei pescatori e udonomi, dei lavoratori marittimi. Ora veniamo nuovamente alla nostra provincia, più in particolare andiamo a Seniga. L'inizio di questa settimana ha preso il via un progetto davvero molto bello, davvero molto emozionante e davvero importante, perché è arrivato il primo tunnel degli abbracci, una sorta di struttura che permette ai parenti di far visita agli ospiti dell'RSA, delle case di riposo, di fargli visita però non attraverso un vetro, non attraverso una finestra o magari anche un cancello, ma permette loro anche di abbracciarli, di toccarsi attraverso un sottile film di plastica. Vediamo gli emozionanti primi incontri di lunedì. Ciao! Posso? Oggi è il primo giorno effettivo di utilizzo con il primo giro familiari, siamo ancora molto emozionati come al 3 di dicembre. Al 3 è stata una prova, quindi oggi è l'effettiva messa a disposizione. Appunto, oggi sì, oggi abbiamo il primo giro familiari, appunto riusciranno a venire più o meno 6 famiglie, nella settimana riusciremo a far incontrare un totale di 15 ospiti con relativi familiari. L'obiettivo è arrivare per la vigilia di Natale col giro completo. Una bellissima idea, Presidente. Ma mi auguro che sia una bellissima idea e che porti dei buoni risultati ai nostri ospiti. Beh, a giudicare da come è stata accolta. L'obiettivo della casa di riposo e che sia positiva proprio per evitare questo senso di abbandono che i nostri ospiti vivono, perché loro essendo chiusi dentro in queste strutture, neanche si rendono conto di quanto sia difficile gestire tutta questa situazione, no? E si sentono un po' abbandonati, pur facendo le videochiamate così, però uno ha problemi di sordità, l'altro si sposta, non vede nessuno e loro continuano a ripetere che mi hanno portato qua, non si fanno più vedere ed è triste vedere... Si sentono ancora più abbandonati. Più abbandonati. Davvero belle e toccanti queste immagini, un vero e proprio, possiamo dire così, regalo di Natale anche ai tanti ospiti di questa casa di riposo, sperando che questa iniziativa possa essere ripetuta anche in altre case di riposo, non solo nella nostra provincia, ma di tutta Italia. Natale in cui entriamo a grandi passi, anche dopo l'Immacolata, infatti cominciano ufficialmente quelli che diciamo così sono i festeggiamenti per le festività natalizie, comincia, anzi per molti è già cominciata, però inizia il rush finale della corsa ai regali e in questo periodo, specialmente di restrizioni, molti si stanno rivolgendo a quello che è l'e-commerce, all'acquisto attraverso i canali web delle varie società o comunque i vari siti di shopping online. Ci sono però sempre molti rischi di cui stare attenti, a cui prestare attenzione. Sentiamo qualche consiglio per non incappare in varie truffe da parte della Polizia di Stato e il più particolare della Polizia Postale. Purtroppo in questo periodo natalizio, legato anche all'emergenza sanitaria, le truffe online sembrano acutizzarsi, anche perché siamo costretti a rivolgere la nostra attenzione sulla rete internet e anche perché ci consente comunque di trarre dei vantaggi, dei risparmi sui beni e servizi che vogliamo acquistare. Allora, quali sono le regole più importanti? Innanzitutto aggiornare sempre i nostri software e browser dello strumento tecnologico che intendiamo utilizzare per gli acquisti online, affidarci sempre e comunque a siti certificati o ufficiali, possibilmente delle app ufficiali, delle catene di vendita dei grandi magazzini, perché nel caso in cui noi dovessimo fare degli acquisti, oltre ad avere la garanzia, la certezza del buon fine dell'acquisto, ma anche la garanzia che facendo un pagamento non incorriamo nel rischio di dare i nostri dati bancari e credenziali a malintenzionati. Un altro aspetto importante che va sempre verificato è quello che un negozio online deve avere le stesse identiche caratteristiche di un negozio che troviamo sulle strade delle nostre città. Quindi deve avere un indirizzo, un telefono, deve avere una partita IVA, che possiamo benissimo controllare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi possiamo verificare se la partita IVA è artefatta, se è contraffatta e se appartiene a quel negozio di vendita. Chiediamo sempre ulteriori informazioni sul bene che vogliamo acquistare, ditta seria, ha interesse a dare quante più informazioni possibile per far sì che l'operazione vada a buon fine. Prima di completare l'acquisto, verificare l'affidabilità di quel sito attraverso il feedback di altri utenti, perché le voci di un sito truffaldino sulla rete internet girano velocemente. Se dovesse capitarvi di incorrere in un'offerta troppo bella per essere vera, forse non lo è. E quindi attenzione, perché purtroppo il rischio di truffa è davvero dietro l'angolo. Sul nostro sito internet trovate anche il decalogo completo con i consigli nel dettaglio della Polizia di Stato per evitare queste truffe durante gli acquisti online. Come abbiamo visto nel giorno dell'Immacolata, si stiamo avvicinando sempre in questi giorni a una temperatura abbastanza bassa, stiamo parlando ovviamente di meteo, vediamo tanta pioggia e vediamo anche della neve, anche in alcune parti della nostra provincia. Sembra che questa situazione sia destinata a non cambiare nei prossimi giorni. Non si attenua, non c'è tregua per questa lunga ondata di maltempo sull'Italia che vede sempre con agilità le correnti oceaniche raggiungere il Mediterraneo. Hanno strada libera perché manca l'alta pressione a sbarrare la strada, dall'arrivo di queste perturbazioni. Quindi attenzione anche tra giovedì, venerdì, notte instabili, soprattutto sul lato tirrenico. Le regioni del sud interessate ancora da sistemi depressionari in arrivo dall'oceano. Un miglioramento con la nuova settimana. La pressione dal Mediterraneo, dal Marocco, potrebbe apportare una fase più stabile con un po' di sole e cessazione delle precipitazioni anche al nord. Intanto mercoledì, attenzione, segnaliamo ancora il maltempo sul nord-est del Lombardia orientale con piogge, nevicate, coppiose tra Dolomiti, Venete, Carnia e Giulia, quote molto basse, ma l'instabilità investirà anche molte zone del centro-sud, soprattutto la parte tirrenica, con anche dei temporali sul basso tirreno e clima ventoso ad accompagnare il minimo depressionario. Tutti i dettagli precisi ulteriori li trovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo sul nostro sito web. Cambiamo argomento e parliamo delle bellezze, della cultura della nostra città. Davvero in molti avete accolto l'appello di votare sul sito del FAI per il castello di Brescia perché finisca quantomeno sul podio della classifica dei luoghi del cuore. C'è un altro posto davvero bello, davvero importante della nostra città che c'è però da spingere in questa classifica. In realtà è una classifica diversa, quella dei luoghi storici della salute. Stiamo parlando degli spedali civili di Brescia e più in particolare della quadreria, la vastissima collezione di quadri e arte del maggiore nosocomio cittadino. Quest'anno il FAI, in segno di riconoscenza alle strutture sanitarie italiane che si stanno occupando della cura e dell'assistenza ai malati di Covid, ha ideato una classifica speciale luoghi storici della salute all'interno della classifica più generale luoghi del cuore. In questi giorni a Brescia è partita la grande corsa al podio del castello che si batte per un posto di vertice nella classifica dei luoghi del cuore. Sono molti ed eterogenei gli inviti a cliccare per il cinneo, ma contestualmente è possibile anche dare una preferenza alla quadreria del civile. Le due classifiche non sono infatti in competizione, si può votare in entrambe. Nei suoi quasi 600 anni di vita l'ospedale è venuto in possesso di numerosi beni artistici. Il legame fra i benefattori e l'ospedale dura da 560 anni e il loro ricordo viene esposto a un ritratto nella galleria apposita. Per valorizzare questo immenso patrimonio vengono organizzate mostre temporanee e convegni, ma purtroppo preservare e trasmettere alle generazioni future tutte quelle opere non è un lavoro semplice. Perciò un voto nella classifica del FAI guadagna un valore ulteriore che va ben oltre il lustro della classifica. Il voto per la quadreria degli spedali civili permetterà infatti il restauro di alcune telle che necessitano di cure. Apriamo ora la nostra pagina sportiva, parliamo di Brescia Calcio. Lo sapete, ieri è sceso in campo per il recupero contro la Cremonese, è finita 2-2 in panchina. Non c'era Diego Lopez, lo sapete, è stato esonerato al suo posto, almeno ad interim c'era Daniele Gastaldello. È finita 2-2, si porta a casa un punto l'ex giocatore delle rondinelle, ma sono giornate davvero importanti perché già in giornata sarebbe atteso, a salvo sorprese dell'ultima ora, l'arrivo del nuovo tecnico definitivo, si spera. Daniele Dionigi, vedremo anche se ci saranno pure dei ribaltoni societari. Stiamo attenti insomma in queste ore perché in casa Brescia Calcio ne potrebbero succedere davvero di tutti i colori. Intanto andiamo a ascoltare un commento alla partita di ieri del nostro Fabio Petteno. Debutto con un punto per Daniele Gastaldello sulla panchina del Brescia. L'allenatore ad interim in attesa dell'arrivo di Davide Dionigi, così almeno pare, ha portato alla riscossa del Brescia. Una riscossa a metà perché al termine della sfida, giocata su un terreno pesantissimo, fino all'ultimo non si sapeva se si giocava allo Zini di Cremona, è uscito un 2-2. Un 2-2 figlio di una prestazione con tanti errori ma anche tanto cuore da parte del Brescia. Pinato segnava al tredicesimo il gol del vantaggio per i grigiorossi di Bisoli, sfruttando una clamorosa indecisione della difesa. Poi trascinata da un super torregrossa, il Brescia pareggiava proprio con l'attaccante, con la maglia numero 11 su calcio di punizione. Poco prima la traversa negava il gol del momentaneo 1-1 a Sabelli. Nella ripresa entra Selar, dopo due minuti l'attaccante grigiorosso di Bisoli pescava il jolly dai 25 metri, palla che picchiava sotto la traversa e si insaccava per il 2-1. Sembrava crollare il mondo addosso al Brescia, invece De Sena, pochi istanti dopo, con un sinistro di controbalzo, firmava il 2-2. La stanchezza poi affiorava, un Brescia che si portava a casa un punto davvero importante, un punto di ripartenza, ripetiamo, nell'attesa di sapere chi sarà il prossimo allenatore. Via Lopez, grandi cambiamenti anche in seno alla società. Ovviamente domani è atteso il faccia a faccia definitivo tra Dionisi e Cellino, per capire se sarà lui il nuovo allenatore, così sembra, oppure chissà. Si continuerà con Daniele Gastaldelli. E allora vedremo cosa succederà in seno al Brescia Calcio, grazie a Fabio Petenò, che ritroveremo anche questa sera ovviamente a Pirlo e Motori. Questa sera alle 20.45 scende in campo anche la Germania, la prima in Euro Cup di coach Buscaglia, dopo la vittoria in campionato, è chiamato alla riconferma in una situazione che, dobbiamo dirlo, è parzialmente se non totalmente compromessa per quanto riguarda il passaggio del turno. Le speranze di qualificarsi alla Top 16 sono ridotte più che al Lumicino, ma questa sera la Germania è chiamata a una prova di cuore, a riconfermare il bel successo in campionato e battezzare nel migliore dei modi l'esordio in Euro Cup con Maurizio Buscaglia in panchina. Al pala 2A alle 20.45 arriva l'Unicaia Malaga, uno dei team più forti della competizione. Il cammino europeo, compiuto finora dalla formazione bresciana, non lascia molte speranze di approdare alla seconda fase. All'obbligo di battere Malaga e Metropolitans 92 nelle ultime due gare del girone, infatti, va concatenata una serie di altri risultati favorevoli, senza i quali il percorso continentale della Germani si interromperebbe a dicembre. Nella serata di ieri, Buduc Nost ha mantenuto vive le flebili speranze della Germani, battendo l'Ulm. Altro incastro fondamentale sarebbe una vittoria di Bologno contro Mornar Bar questa sera alle 19.00. «Affrontiamo una squadra molto organizzata, profonda e solida, che sta facendo bene sia in Europa che in campionato», ha detto in fase di presentazione Coach Buscaglia. «Questo, per noi, può essere ottimo, perché ci costringerà ad avere una grande concentrazione per mettere in campo la base del nostro gioco. Stiamo lavorando bene in questo senso e dobbiamo cercare di fare una partita tosta, gagliarda e soprattutto consistente, in un appuntamento europeo che, considerando il valore della squadra avversaria, è di alto livello». Ora parliamo di pallavolo, lo facciamo con l'Atlantide, pallavolo Brescia, parlando di un'iniziativa a cui la società ha deciso di aderire. Si tratta di Salviamo lo Sport, una sorta di accorato appello a politici e al governo, ma non solo, ovviamente anche alle persone comuni, a stare vicino alle società sportive che in questo periodo stanno vivendo momenti davvero difficili a causa ovviamente della crisi dovuta al Covid. Sentiamo proprio l'appello per questa iniziativa di Cisolla. «Ciao a tutti, sono il Ciso. Allora, qualche anno è un po' che ci vediamo in giro. Io mi sono divertito un sacco in questi 25 passani di carriera, spero di giocarne ancora tanti, lo dico, però vi chiedo un piccolo favore. Salviamo lo sport, non per me, ma per questi due giovinastri che messi assieme non fanno i miei anni, però non importa. Tu come ti chiami? Gianluca. «Tu? Francesco». «Ecco, sono i miei compagni di squadra, mi raccomando, salviamo lo sport per loro. Governo, amici, tutti quanti, dateci una mano». E questa era l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo che parlando appunto di Atlantide, questa sera, ore 21 e 30, sui nostri canali Torna e Atlantide, con la sintesi dell'ultima partita, la vittoria davvero importante contro Ortona e tutte le interviste del post-gara. In chiusura, tutte le notizie, io vi ricordo che come sempre si aggiornano sul nostro sito internet. Se volete rimanere informati è davvero il modo più migliore per farlo. Trovate anche il nostro canale 16 e 197, la digitale terrestre, in questo piccolo box espandibile a tutta pagina, visibile anche da mobile e attraverso i banner dedicati potete anche decidere, eccoli qua, di iscrivervi ai nostri canali Telegram, e live Brescia News ed e live Brescia Sport per ricevere tutte le notizie direttamente sul vostro telefono cellulare. È davvero tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.